Dio, padrone assoluto dell'universo, ha partecipato all'uomo la facoltà di servirsi della creazione per la sua sussistenza. L'uomo, impegnando a sua volta le sue facoltà intellettive e fisiche, sviluppa la creazione e nello stesso tempo si afferma nella dignità in cui Dio lo aveva messo e lo aveva arricchito. I beni della creazione sono destinati a tutti gli uomini, anche se per una infinità di cause vi è una diversa partecipazione e quindi allora abbiamo lo spezzettamento della creazione, abbiamo l'eredità, le donazioni, il lavoro, il frutto delle industrie eccetera. Nella tradizione ebraica non vi era questa realtà che oggi noi sappiamo, una persona può comprare un terreno e lo compra per sempre. Presso gli ebrei non sussisteva questa impostazione perché ogni contratto di compravendita di una proprietà terriera aveva il valore di 50 anni, per cui uno comprava oggi i terminati 50 anni, la proprietà tornava al proprietario primitivo. Il rispetto delle persone, dei beni, chi ha fatto l'esperienza del furto è qualcosa di tragico, solo queste persone possono capire che cosa significa soffrire lo scasso di una casa, ma anche il furto di una radiolina nella macchina, aver forzato la portiera eccetera. Si rimane scioccati, varie sono le forme di furto, abbiamo la rapina, gli scippi, l'estorsione, sequestri, appalti, concorsi truccati, collaudi falsificati eccetera. Allora vediamo, non è soltanto lo scasso della casa o della banca, ma è un sistema di vita che può essere tutto chiamato e collocato sotto la denominazione di furto. Ci sono altre offese alla persona, per esempio privare a una persona il diritto di esercitare la sua religione, di pregare il suo Dio. Impedire questo significa privarla di un diritto e quindi è un furto. Abbiamo ancora la tortura che viene ancora praticata e la negazione di altre manifestazioni intellettuali, filosofiche, scientifiche. Possono essere manifestazioni di furto e l'impedimento di questa realtà. Di Padre Pio possiamo considerare due aspetti. La costruzione della casa a sollievo, che non fu costruito come oggi eventualmente si pensa quando si costruisce delle nuove fabbriche eccetera. Si pensa che utile ne ricaviamo per vedere quanto dobbiamo impegnare nella costruzione. Padre Pio non ha fatto questo discorso, non ha costruito l'ospedale per l'utile che avrebbe dato, ma per l'assistenza all'ammalato. e ha voluto che l'ospedale fosse costruito in montagna, sulla roccia, quindi contro ogni legge economica, perché voleva che l'ospedale fosse una seconda chiesa. Allora il bisogno di stare vicino all'ammalato e il bisogno di difendere le proprie proprietà, se ci fosse il principio di Francesca d'Assise e di Padre Pio non ci sarebbe più bisogno di serrature particolari, di allarmi eccetera, perché l'amore fraterno distruggerebbe tutte queste situazioni negative. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.